La rete Maker torna ad R2B a un anno dalla sanascita. Sì, torniamo a R2B dopo un anno per festeggiare un anno di attività, lo facciamo con uno stand ancora più grande di quello dell'anno scorso, all'interno del quale abbiamo portato tutta una serie di progetti che i nostri makers hanno realizzato in collaborazione con le imprese. Il tema della relazione con le imprese è infatti il tema di riferimento per noi quest'anno, vogliamo sottolineare le opportunità e le potenzialità che i Fab Lab possono offrire nei processi di innovazione delle imprese, in particolare piccole e piccolissime, e quindi siamo qui appunto per proporci a loro come partner nelle loro attività di ricerca.